Se due docenti universitari dell'Università di Bologna si fossero conosciuti dopo qualche tempo che ciascuno dei due seguiva il lavoro dell'altro con molta stima e per la prima volta si fossero conosciuti di persona, probabilmente qualche giorno dopo si sarebbero scambiati due mail di che bello e le due mail potevano essere più o meno questo. Un docente diciamo che si chiama Giovanni Bianchi Romagnolo di Rimini con un carattere pare un po' così e che scrive alla professoressa Laura Bassi invece di Bologna. Gentile professoressa Laura Bassi sono felice di averla incontrata di persona a Bologna perché stimo e seguo da tempo il suo lavoro. Anci so che il professor Balbi ha scritto un articolo su di lei può chiedergli di inviarmelo tramite il professor Battaglini. Mi saluti anche il professor Tocci, nostro collega comune amico, cordialmente Giovanni Bianchi. Mettiamo che la stessa professoressa Laura Bassi risponda. Gentile professor Bianchi, grazie per le sue parole di stima. Ho portato i suoi saluti ai professori Bianchi e Tocci. L'articolo che mi riguarda le verrà spedito, così mi dicono, dopo il ponte di Carnevale. Cordialmente Laura Bassi. Due brevi mail con questo un po' ordine perentorio di Bianchi dicendo vada a prendere l'articolo che è uscito me lo indica di mandarmelo, però è fatto così. Ora io vi leggerò le due lettere scritte credo accuratamente a mano penna Calamaio dai veri Giovanni Bianchi e Laura Bassi. La data è il febbraio del 1733, tre secoli fa. Alla signora pregiatissima dottoressa Laura Bassi, illustrissima signora, pregiatissima, crederei di mancare non poco a me medesimo per le molte obbligazioni che io ho contratte ultimamente in Bologna con vossignoria illustrissima, se tosto giunto che io sono in patria, a Rimini, io non le scrivessi rinnovandole gli attestati di quella molta stima che io ho conceputa per lei e che mai dal mio animo non potrà togliersi o dileguarsi, punto. Resti dunque persuasa, vossignoria illustrissima, che io qui o altrove, dovunque mai io potessi ritrovarmi, io vivrò sempre ricordevole del suo valore e il commenderò sempre e in ogni luogo con tutti, siccome ora io ho incominciato a fare, incessantemente, punto. Io vorrei che la vossignoria illustrissima con qualche suo comando mi dasse modo anche coi fatti, io le potessi appalesare gli argomenti della giusta stima che io ho per lei e che ora solamente mi ingegno di dimostrare con le parole, punto. E semmai la debolezza mia o della fortuna o per la molta grandeccia di lei e quell'umile uomo quale io mi trovo, che poco veramente o nulla potrò contribuire, mi fosse tolto di poter far questo, io m'auguro che la forza almeno delle mie parole, la sublime scienza e l'alto valore di vossignoria illustrissima predicando, possa aggiungere a tanto che meriti di trapassare alle memorie dei futuri, che così io mi potrei per avventura lusingare d'avere soddisfatto in non piccola parte a quello che merita e che io giustamente di lei ho conceputo, punto. Cambio. Le supplico di portare i miei saluti al signor dottor Paolo Battista Balbi e al signor Jacopo Tocci, al primo dei quali mi favorirà dire che io con ansietà desidero quella raccolta di composizioni in laude di vossignoria illustrissima con il suo ritratto, anche siccome egli mi aveva promesso, le quali cose a ciò che io avessi tostamente potrebbe consegnarle all'abbate battaglini. E per finire, con tutto rispetto, inchinandola, mi sottoscrivo di vossignoria illustrissima, umilissimo, divotissimo, obedientissimo servo Giovanni Bianchi. Risponde Laura Bassi, che ha uno stile molto più conciso, molto più pratica, come molte signore che hanno un sacco di cose da fare, e anche infinitamente ironica, secondo me, non so, poi. All'illustrissimo signore, eccetera, eccetera, Giovanni Bianchi Rimini. Resto, restano di gran lunga aumentate quelle molte obbligazioni che a vossignoria illustrissima mi dò l'onore di professare dal nuovo ben distinto favore di sua pregiatissima lettera che mi notifica il di lei felice arrivo alla patria. Rimini, sempre. Di queste e delle gentilissime espressioni onde in essa mi onore le rendo quelle maggiori di vote grazie che la debolezza del mio talento mi permette, assicurandola dell'inalterabile stima che le professo, sempre memore essendo dei favori e delle compitecce nella breve dimora da vossignoria illustrissima qui avuta verso di me praticate. Al signor dottor Balbi e al signor Tocci ho portato il di lei uffici. Entrambe mi hanno imposto di vivamente ringraziarla e a loro nome ossequiosamente riverirla. Quanto alla raccolta ha il signor Balbi promesso consegnarla al signor Battaglini compiuto che sarà il cadente carnevale. Se mi conoscesse, vossignoria illustrissima, valevole ad obbedirla in altro, riverentemente la supplico di non privarmi dei suoi stimati comandamenti perché di nulla più mi pregio che di insegnarmi, umilissima, devotissima, obbligatissima, serva sua, Laura Caterina Bassi. Questa ragazza aveva 22 anni. Laura Bassi nasce nel 1711 e nel febbraio del 1733, quando si esibisce in questo dialogo così assolutamente rispettoso delle cerimonie accademiche tipiche della Bologna di quegli anni, forse non solo di quegli anni, ha appena chiuso un anno effettivamente speciale. Laura Bassi si laurea nel 1722, un anno assolutamente speciale, del quale ora vi mostrerò alcune immagini. Laura Bassi è di origini sociali, oggi diremmo piccolo, medio borghesi, non è assolutamente una nobile, non appartiene a una famiglia importante della città e forse anche per questo viene individuata come la figura giusta per rispondere alle esigenze di una città che è in crisi da tanti punti di vista, soprattutto da un punto di vista economico. Bologna era stata per secoli una città molto ricca grazie alla industria della seta, c'erano dei mulini tecnologicamente molto avanzati fino alla fine del 600, inizi del 700, poi naturalmente potete immaginare quando decollano le economie, soprattutto quelle inglesi, la città di Bologna perde questo primato e tutta la città ne risente profondamente perché quella era l'unica fonte di reddito importante. È una città che ha avuto dal punto di vista scientifico un passato importante con la fondazione dell'Istituto delle Scienze e però anche appunto dal punto di vista culturale è in crisi. Un personaggio importante di cui sicuramente avete sentito parlare è Prospero Lambertini che in quegli anni è arcivescovo e ha fatto molto in fretta una carriera molto importante a Roma sta rientrando a Bologna, sente parlare di questa giovane e decide insieme ad alcuni docenti dell'Università di Bologna che forse questa giovane può essere un elemento su quale investire per attirare attenzione da fuori su una città in crisi e rilanciare anche come diremo noi oggi forse da un punto di vista psicologico un pochino di energia, rimettere in movimento un po' di anche di competitività tra istituzioni diverse di questa città in crisi. Laura Bassi nasce appunto nel 1711, pare che sia scoperta per caso da questo medico che stava curando la madre che era anche un docente universitario che si prende cura della formazione di questa ragazza. All'inizio del 1732 si decide che questa giovane è forse pronta e il primo passo per il lancio diremo oggi mediatico di questa operazione che dura un anno è nel marzo del 1332 esattamente il 20 marzo, quando in una cerimonia privata si testa la formazione di questa giovane si verifica che davvero è pronta per una cerimonia pubblica e in ogni caso in questa occasione la si nomina socia onoraria, soltanto onoraria dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Nemmeno un mese dopo si organizza una cerimonia assolutamente grandiosa per la discussione pubblica delle tesi di questa giovane. È grandiosa nel senso che non è solamente grandiosa in questa rappresentazione, in questo interno come vedete molto decorato alla presenza di tutte le autorità cittadine, sia quelle dell'università, sia il senato, sia le autorità religiose, ma è una manifestazione imponente anche in città, tutta la popolazione viene invitata a partecipare alla sfilata che accompagna la giovane a discutere le sue tesi. Una cerimonia come potete immaginare avendo sentito queste lettere decisa nei minimi dettagli, da vestiti di bassi che viene accompagnata da alcune nobili cittadine, ai decori, a naturalmente la discussione delle tesi. Ora le tesi sono state in tutto 49, se non ricordo male non dovete immaginare le tesi di oggi che insomma è bene o male, sono un lavoro più o meno approfondito su un tema. Le tesi in quegli anni erano un dialogo, domande risposte, domande del docente risposta dello studente su dei temi molto consolidati e tra l'altro in questi anni, dicono gli esperti, temi certamente non all'avanguardia. Una situazione piuttosto arretrata, una università ancora cartesiana dove quella che oggi chiamiamo scienza e che allora si chiamava filosofia naturale era soprattutto una storia, una storia della filosofia, una storia della filosofia naturale. Bassi discute brillantemente, io ho fatto questa freccetta un po' così molto primitiva per indicarvi dov'è vestita di azzurro e regge benissimo la tensione che immagino sia stata piuttosto importante per una giovane abituata alla ritiratezza. La ritiratezza era una categoria diremmo noi oggi fondamentale per la giovane di quegli anni, non doveva assolutamente esibirsi in pubblico, una giovane non doveva parlare in pubblico e quindi qui invece abbiamo una giovane che difende le sue tesi. L'appuntamento successivo è in maggio quando c'è la proclamazione, nella sala d'Ercole viene proclamata dottoressa, ancora qui si vede, non so se vedete quelle signore vestite di colori diversi, credo che sia, questo non è certo, credo che sia ancora una volta quella vestita di azzurro nel mezzo. Forse bisogna dire qualche cosa anche su Prospero, ma forse lo dirò alla fine. La cosa forse interessante da dire è che in anni in cui certamente non credo siano stati molti gli uomini laureati che hanno avuto l'onore di tutte queste raffigurazioni iconografiche, questa iconografia è assolutamente speciale, è assolutamente unica, non solo per una donna, è unica in assoluto per cerimonie, tutto sommato, è abbastanza banali come questa. Dopo la proclamazione in giugno discute altre tesi che serviranno per conferirle questa lettura universitaria, un insegnamento diremmo noi oggi, onorario, che le verrà attribuito ufficialmente soltanto a ottobre con non proprio uno stipendio, diciamo una specie di premio di 500 lire. Su questo la città naturalmente discute, molto in Senato molti sono contrari ad attribuire a una donna un insegnamento, quindi si raggiunge un compromesso assegnandole una lettura, cioè una cattedra però onoraria e questo denaro che le viene dato le viene dato in forma di premio, una specie di borsa di studio diremmo noi oggi, perché proprio in questo anno tra le persone più diciamo contrarie all'attribuzione a una donna di una tesi, ma soprattutto più che della tesi e del dottorato di uno stipendio, c'è una donna, Laura Bentivoglio Davia, una nobile, che ha proprio un'argomentazione molto convinta sul fatto che una donna ruberebbe uno stipendio a un uomo, quindi la nobiltà che nel Senato aveva una voce importante nella gestione dell'università, gli esperti e le esperte come Anna Rita dicono che una delle cause del decadimento dell'istituzione solleva questo punto economico, quindi onorarie queste cariche. Infine la prima lezione, la prima lezione nell'archiginnasio nel dicembre, quindi sei eventi che si susseguono nel corso di un anno e che la vedono qui vedete su questo baldacchino rosso, vestita invece da dottoressa diciamo. Sei eventi che si susseguono rapidamente l'uno dietro l'altro e che a giudicare da diari, lettere, testimonianze di vari protagonisti della vita cittadina di quegli anni, Bassi regge assolutamente da professionista diremo noi oggi, senza perdere un filo di pressione. Quindi quella lettera che pochi mesi, un mese, due mesi dopo questa prima lezione all'archiginnasio scrive a Bianchi, Iannus Plancus lo chiamavano anche, Bianchi era uno assolutamente ironico, probabilmente quella lunga digressione ricchissima di queste parole assolutamente inutili, forse faceva parte di un rito, forse ironico come diceva Marinella. Qual è? Non è finita, le iconografie continuano, sono anche queste due, forse noi conosciamo di più quei due quadri postumi, che sono entrambi credo in rettorato, sono della fine del Settecento e sono postumi. Tutte queste immagini invece sono le uniche che abbiamo, in realtà ce ne sono altre due, ma anche di quelle non si sa bene la data, fatte con Bassi viva. Sempre del 32 ci sono queste due, questa incisione del 32 che viene inserita nella pubblicazione delle sue tesi, le famose 49 tesi, e questo profilo che a me sembra bellissimo, è questa medaglia d'argento, questa è la copia del Museo Civico archeologico, è una copia bellissima, non ossidata, dove questa giovane è di profilo, guarda il futuro e secondo le esperte, chi ha lavorato molto su Bassi naturalmente sono soprattutto Marta Cavazza, Paula Findlen e Beate Ceranski, sostengono che è molto probabile che questo profilo sia quello di questa ragazza che regge questo confronto alla pari con uomini molto più anziani di lei spesso. Questa iconografia è assolutamente unica e non solo l'iconografia è ricchissima, ma naturalmente anche i commenti, io ne ho riportati solo alcuni, viene definita un mostro di filosofia, una meraviglia del suo sesso, non ha paura di nessuno. Però naturalmente c'è un problema. Queste operazioni erano state immaginate, come vi dicevo, per rilanciare una situazione in crisi, una situazione cittadina, istituzionale in crisi. Il problema è che Bassi non si accontenta di rappresentare la giovane Minerva che celebra e che accetta di celebrare questo ruolo, di recitare questo ruolo. È una giovane davvero appassionata di cultura, davvero appassionata di scienza e reagisce a questi tentativi di tenerla onoraria lavorando con una costanza che effettivamente è molto rara. I documenti che raccontano queste vicende sono soprattutto documenti burocratici. Pensavo oggi, pensando a questa sera, noi siamo ossessionate e ossessionati dalla burocrazia che ci perseguita, ma nel caso di Bassi, della quale, come succede spesso con le donne, sono andate perdute molte carte personali, c'è una ricchezza di documenti burocratici che raccontano di questo suo continuo, costante interagire con le autorità del Senato, religiose, non parlava direttamente con Prospero, Lambertini anche se c'era una stima reciproca molto consolidata, molto importante, naturalmente aveva degli intermediari. Ci raccontano di una donna che è assolutamente determinata a, rispettando questo cerimoniale, rispettando tutte le regole dell'Accademia, a trovare una sua autonomia e soprattutto a studiare, studiare la filosofia naturale. Uno dei suoi amici, Manfredi, dice che è costretta a dare continuo spettacolo di sé e lei a un certo punto troverà una soluzione. La soluzione sarà un matrimonio, un matrimonio con un collega che la stima e che le assicurerà, come ora sentiremo, di poter contrivare liberamente le sue passioni, ma soprattutto il primo atto importante, davvero importante, se penso anche come funzionano ancora spesso i rapporti tra docente e studente ancora oggi, è di abbandonare, incluso il docente che l'aveva formata fino ad allora, di abbandonare la cultura cartesiana datata, decisamente datata, di leggere Locke, di leggere Newton e quindi di iniziare a occuparsi di matematica, di fisica newtoniana per darsi quelle basi che le avrebbero poi consentito di diventare una sperimentatrice decisamente interessante. Purtroppo ci è rimasto poco, quindi dei suoi scritti, abbiamo l'elenco delle sue conferenze, poi su questo magari torneremo. In ogni caso tra il 1732 e il 37-38 Bassi studia, Bassi lavora, Bassi si aggiorna e lentamente rispettando comunque come dicevo tutte queste, non so come chiamarli, questi rituali, questi rituali di fatto trova una sua strada. Il problema del matrimonio non è piccolo, nel senso che come vi dicevo prima la ritiratezza e tutta una serie di altre caratteristiche che erano ritenute indispensabili per una donna cominciano a sollevare, non erano rispettate naturalmente nel comportamento di una giovane che studiava e si aggiornava. Iniziano a circolare voci molto critiche, addirittura molto volgari, niente di diverso da quello che continua ad accadere ora, assolutamente ci sono scritti proprio espliciti, sono rimaste testimonianze di queste insinuazioni pesantissime e quindi Bassi deve prendere una decisione, non può andare in pubblico non sposata e quindi decide di sposarsi. Buonasera a tutti, ho la luce in faccia e quindi non riesco a vedervi ma credo di aver intuito la presenza anche di qualche uomo, onore al merito perché so che c'è la partita dell'Italia quindi già l'argomento e la partita in aggiunta vi rendono effettivamente eroici. La voce, il corpo che ci ha reso lo scambio epistolare tra Laura Bassi e Giovanni Bianchi per gli scienziati del Settecento, Janus Plancus e quella di Marinella Manicarli e a portarci invece dentro le vicende del mirabile anno 1732 e di quelli che seguiranno è stata Paola Govoni. La protagonista della serata è, come sapete bene, Laura Bassi, la prima delle tre figure femminili maestre studiose che hanno fatto la storia dell'Università di Bologna a cui è dedicata una presenza in questa nella rassegna di Zambè di quest'anno. Lo sguardo, l'intreccio tra lo sguardo drammaturgico e quello storico scientifico, quello di Marinella Manicardi e quello di Paola Govoni daranno spessore a questa figura di scienziata e di protagonista della cultura bolognese. Come avrete evidentemente già intuito non dobbiamo aspettarci la storia, non dobbiamo aspettarci la monumentalizzazione di una figura femminile, di un'eroina, di un alfiere della rivendicazione dei diritti femminili all'interno della comunità scientifica, ma non dobbiamo aspettarci neanche la celebrazione di una visione particolarmente avanzata della città di Bologna nel 700, questa provincia papalina che però sceglie una donna come emblema da mostrare alla comunità scientifica internazionale. Vedremo piuttosto una storia fatta di chiaroscuri, di luce, di ombre, di tinte sfumate, dove la determinazione di questa figura femminile, di questa donna scienziata, è data dalla tenacia, dalla determinazione, dalla capacità di lavoro, se volete anche da un titanismo che la porta a resistere a una quantità di pregiudizi e di resistenze che esistevano e che esistevano anche molto vicino a lei. Potremmo dire un episodio, un caso, quello di Laura Bassi, più che di eroismo femminile, di quella che oggi chiameremmo resilienza. E da questo punto di vista Laura Bassi non è solo una figura storica, ma ha una sua drammatica attualità per andare a osservare senza miraggi, senza illusioni, la condizione femminile non solo nella società, ma dentro la cultura scientifica e anche dentro la vita accademica. Ora, come allora, le tinte sono abbastanza difficili da scevrare, i pregiudizi sono abbastanza forti. E tutto questo, a renderci tutto questo in maniera tutt'altro che edulcorata, sono due professioniste perfettamente attrezzate a ciò. A parlarci, a darci una lettura del personaggio Laura Bassi, da un punto di vista storico e scientifico, sarà Paola Govoni, che è professoressa all'Università di Bologna di Storia della Scienza, e ha curato, ma potremmo dire in qualche modo coautrice di questo libro di Marta Cavazza, che raccoglie il saggio di Marta Cavazza su Laura Bassi, sottotitolo Donne, Genere e Scienza nell'Italia del Settecento, che vi mostro e che è l'ultima uscita sulla scienziata bolognese. Dietro un libro ci sono tante cose, dietro questo libro ci sono documenti, dietro questo libro forse c'è anche quello che ogni lettore vuole cercare. Io dietro questo libro, oltre a trovare dei documenti, delle interpretazioni interessanti, ho trovato anche, e tu vi correggerai se sbaglio, un esempio di quella cosa che una volta nella seconda ondata del femminismo, quella della mia generazione, si chiamava Sorellanza, e mi sembra che dietro questo libro ci sia anche questo, ed anche per questa ragione penso sia una testimonianza importante. Dico questo perché Paola Govoni non nasce come studiosa del Settecento, della scienza del Settecento, è impegnata da tempo su questioni legate agli intrecci tra scienza e società, ha studiato il rapporto tra questioni di genere e attività e produzione scientifica, mi preme ricordare e leggo per non sbagliarmi nei nomi, negli acronimi, voglio ricordare che Paola Govoni ha fondato insieme alla sociologa Rossella Ghigi e alla pedagogista Silvia Leonelli che è il Centro Studi sul Genere e l'Educazione ed è cofondatrice del gruppo interdisciplinare dell'Università di Bologna nell'ambito degli studi di genere. Quindi nel suo caso non abbiamo dubbi circa il fatto che le luci e le ombre della presenza femminile nel mondo scientifico e nel mondo accademico le conosca non solo da storica ma anche da protagonista. L'altra voce, l'altro sguardo, mi piace più chiamarlo sguardo, su questa figura trasparente di Laura Bassi è quello di Marinella Manicardi, come attrice non ha bisogno di presentazioni ma non è soltanto un'attrice, una scrittrice, saggista, drammaturga, regista, ha inventato prima e poi diretto insieme a Luigi Gozzi il Teatro delle Moline, fu un esempio, uso il passato remoto perché ora il Teatro delle Moline non c'è più, è dentro l'arena del sole. Ma per la mia generazione il Teatro delle Moline era il simbolo di una cultura alternativa rispetto a quella un po' strapaesana di questa città di provincia, un teatro a vocazione sperimentale, internazionale, dove vai stasera alle Moline e voleva dire vado in un posto nel quale ci si va con un'intenzione precisa. Dunque anche in questo caso, anche nel caso di Marinella Manicardi, credo che ci sia, ci troviamo di fronte a una fortunata concomitanza tra professione e militanza che la porta quindi a leggere la condizione femminile senza anacronismi e senza trionfalismi che sarebbero fuori luogo. A questo proposito mi piace ricordare, spero che sentiate, mi piace ricordare la sua regia e la sua interpretazione di Anna Cappelli e anche la Maria dei Dadi da Brodo, romanzo oltre che spettacolo, attraverso il quale emerge l'intraprendenza femminile con dei toni a tratti ironici ma anche molto seri e molto gravi. Mi interessa anche ricordare e soprattutto mostrarvelo Corpi Impuri, ora un saggio ma prima uno spettacolo teatrale dedicato al tabù delle mestruazioni e che andò in scena credo per la prima volta nell'edizione del 2011 del Festival della Filosofia. A questo punto io taccio per non togliere spazio a questa ricostruzione a due voci e su due livelli e io mi chiamo Annarita Angelini e lascio la parola a Marinella. Che non è una presenza da poco perché filosofia, dillo tu. Storia della filosofia insieme. Storia della filosofia. Beh insomma, quindi perfettamente presente, ha senso che sia qua. Ti sei dimenticata di dire che abbiamo due forze in liccia? Lo dirò dopo. Benissimo, perfetto. Chiedo scusa. Parliamo di anni mirabili e ce ne saranno probabilmente altri, chissà. Ah, bene, bene, bene. Allora, anno mirabile, come diceva Paolo, è il 1738 ed è quello in cui Laura Bassi decide di sposarsi. Ed ecco che il nostro Giovanni Bianchi le scrive, poteva evitare di scriverle, le scrive col suo caratterino. Illustrissima signora, pregiatissima eccetera, poiché è molto tempo che io non ho avuto l'onore di ricevere lettere da vostra signoria illustrissima, ardisco io, il primo, di rompere il silenzio per allegrarmi con essa lei per le sue felicissime nocce che ho inteso avere te stesse celebrate con il signor dottor Beratti. Io, il primo, e spontaneamente passo con vos, signoria illustrissima, quest'ufficio non tanto per esercitare una parte del mio dovere, quanto che così facendo vengo in un certo modo con me stesso a rallegrarmi e a compiacermene, poiché l'ultima volta che con lei io ragionai in Bologna, vicino le predissi questo felice avvenimento. Lei, cara signora Laura Bassi, non mi ha scritto del suo matrimonio, ma io lo sapevo. Allora, queste due lettere sono tutte sulla gerarchia. Sto più su io o no? Sto più su. E' tutto un continuo posizionamento gerarchico. Perché lo sapeva Giovanni Bianchi del matrimonio? Perché dice che quando il duca di Baviera viene a Bologna e vuole conoscere alcuni docenti universitari, vuole andare anche da Laura Bassi, vedere il suo laboratorio e, come si usava, le lascia in dono un anello con due pietre di colore e forma tali che erano, così dice Bianchi, un augurio di matrimonio. Per cui dice, lo sapevo. Ve lo riassumo perché lui ci mette mezza pagina a dirvelo. Riprende. Da ciò che io dico, ognun vede che io non sono di quei rigidi uomini che sinistramente le cose interpretando potrebbero quasi questo matrimonio in lei condannare, come per un segno di remissione allo studio. Perciò che io piuttosto credo che questa soave associazione, il matrimonio, servale d'alleggerimento per vi è più lientemente avanzarsi nel corso incominciato poiché vedgo che nell'accoppiarsi non solo ha scelta persona dotta e valente ma anche tempo opportuno qual è la primavera, madre di tutti gli onesti piaceri, stagione a venere dedicata che Lucrezio, caro, qui attacca con tutta una mezza pagina di lode della primavera che porterà i suoi frutti e alleggerla, che ovviamente non vi leggo, ma che alleggerla bene come dire, nelle intenzioni a lei fa benissimo sposarsi, io non ho mica, si figuri se io sono uno di quegli di quegli uomini stupidi che pensano che una donna che si sposa poi non fa più niente, no? Però se è sposata uno che la può aiutare e poi se è sposata di primavera comincerà a fare figli, cara signora e quindi dopo ciao Cambio di tono e di posizionamento Volevo sapere, si è messa a studiare inglese? No, perché mi ha detto che le interessava io le ho anche mandato una grammatica e una sintassi, le ha usate o no? Altro cambio Per non fare in modo che questa lettera sia una lettera di spipolecce e basta cioè è una lettera in cui dice sono felice che lei si sposi Vabbè, allora le racconterò di cosa mi sto occupando io e su due pagine di lettere, una intera è sugli studi che lui sta facendo bellissimi, stupendi, meravigliosi, sull'aurora boreale Chiude la lettera e per finire umilmente reverendola e pregandola di portare i miei rispetti al signor Dottor Veratti, suo sposo mio signore Mi confesso, divotissimo, obbedientissimo servitore suo, Giovanni Bianchi Risponde Laura Signore pregiovolissimo, eccetera, eccetera Non si meravigli, vostra signoria illustrissima del mio lungo silenzio perché gli non nasce che dal giusto timore di esserle con le mie lettere inopportunamente molesta perché dice lei so che c'ha tanto da studiare e tanto da scrivere delle lettere in giro lunghissime che io temevo di darle un po' fastidio quindi non le ho detto niente non l'ho disturbata quanto alle congratulazioni che si è compiaciuta di inviarmi sopra il mio maritaggio ecco, io ho ragione a ricordarmi questa cosa del Duca di Baviera però, sa cos'è? Che io non ci avevo mica fatto caso a quell'anello, a questa cosa anche perché, allora, io non ero proprio dell'opinione di sposarmi piuttosto d'opinione contraria ed ero del tutto indeterminata a un matrimonio ma, finalmente, le circostanze mie domestiche mi hanno indotta a cangiar di parere e ad appigliarmi a questa risoluzione proprio perché e capisco che lei mi dica che è felice di questa cosa soprattutto perché capisce che io non abbandonerò i miei studi e c'è un passaggio che io trovo molto bello che io mi sento in obbligo di professare è un passaggio che trovo bello e ai quali io ho anzi preteso nel matrimonio, col matrimonio di potere per questa via con più di libertà quietamente attendere e perciò ho scelto persona che cammina la mia stessa strada delle lettere e che per lunga esperienza ero certa che non me ne avrebbe distornata ho scelto l'uomo giusto rispetto poi al fatto che lei mi chiede dell'inglese no, non l'ho studiato perché, sa, mi sono dedicato allo studio della matematica e dell'algebra per capire e seguire Newton l'inglese lo studierò quest'estate che non ho niente da fare quanto poi ai suoi studi all'aurora boreale ma è bellissimo è stupendo è una cosa interessantissima e poi espresso in modo così conciso dice la pagina intera così concise io la prego la prego la supplico di farmi godere qualunque volta impiega l'addottissima sua penna in materie filosofiche o matematiche vero finto che sia questa preghiera beh, insomma l'ironia non manca mio marito si protesta per mio mezzo umilissimo servo e divotamente la ringrazia dei gentilissimi saluti inviatili e brama qualche occasione di comprovarle infatti questi suoi dovuti sentimenti con l'obbedirla poiché mentre la supplico di voler benignamente concedere sia ad esso come a me con pieno rispetto mi confermo sua divotissima obbligatissima serva Laura Caterina Bassi Veratti Sì il matrimonio effettivamente è stato un matrimonio felice sia dal punto di vista professionale che personale però scusate un piccolo ringraziamento ad Anna Rita prima di proseguire con il matrimonio con la carriera di Bassi con tutti i suoi successi Anna Rita è stata generosissima in questa presentazione mi ha quasi commossa da una fratellanza e naturalmente è una studiosa esperta lei è la vera esperta di storia del Settecento ha scritto un libro che resta è diventato un classico come dicono gli storici della collana sulle anatomie accademiche il libro se volete sapere qualche cosa no è vero è vero Anna Rita non è no no ci sta assolutamente quindi lo cito perché naturalmente ha a che fare con queste vicende di Bassi è un po' come Giovanni Bianchi no non è vero non è vero non lo faccio di solito perché se no non sarei qui a prendere in giro perché noi siamo ancora così questo è il problema noi siamo ancora così abbiamo forse un po' accorciato le lettere perché non abbiamo più tempo ne dobbiamo far troppe però di fatto secondo me questo è un problema che continuiamo a non riuscire a risolvere Bassi e Veratti si sposano ed effettivamente la loro relazione funziona molto bene ci sono delle lettere a testimoniarlo ci sono delle testimonianze ci sono otto figli di cui cinque sopravvissuti ma soprattutto c'è questa attività di laboratorio davvero straordinaria e interessante prima di raccontarvi perché ora vi racconterò un po' sempre basandovi ripeto ancora una volta sulle ricerche di Cavazia di Findlen della carriera della ricerca e delle ricerche dei contatti di Bassi forse due parole ancora su le strategie che hanno reso possibile in questo caso Lambertini è molto conosciuto in città perché è stato davvero un personaggio illuminato oltre che illuminista e costruisce in un modo davvero intelligente il caso Bassi sa che deve convincere un senato un senato che gestisce non solo la città ma anche l'università per investire in un'avventura decisamente anomala e lo fa dieci anni dopo il tentativo fallito della laurea a Maria Vittoria del Finidosi nel caso di Maria Vittoria del Finidosi della quale esiste un'immagine splendida che è conservata qui alla biblioteca universitaria di Maria Vittoria che dona alla regina di Spagna le sue tesi l'operazione andava a gloria di una famiglia di una famiglia nobiliare che come era già accaduto con la Piscopia a Padova alla fine del 600 nel 1678 la prima laureata e la vera prima laureata almeno fino a prova contraria al mondo come accadrà nel caso di Maria Gaetan Agnesi esibita insieme alla sorella per glorificare un padre che da borghese voleva fare il salto verso la aristocrazia per evitare il fallimento che c'è con del Finidosi perché alla fine il Senato si oppone e non le viene data la tesi Prospero utilizzando sfruttando la falsa storia è il mito delle donne docenti all'università di Bologna già dal Medioevo convince il Senato che l'operazione andrà a gloria appunto della città non di una parte politica non di una famiglia nobiliare questo è interessante perché in quegli anni in cui si tentava di far ottenere a Maria Vittoria la laurea una intera famiglia di falsari i Machiavelli che Marta ha scoperto e Paula Finden ha riscritto questa storia fantastica si inventano dei documenti per dimostrare che a Bologna ci sono state delle donne docenti già nel Medioevo questa era una cultura orale diciamo che si tramandava a gloria dei docenti dell'università di Bologna certamente non era utilizzata per aprire le porte dell'università alle donne Machiavelli costruisce proprio dei documenti falsi e scrive un libro su Bitizia nel 1722 che dovrebbe sostenere l'operazione del finidosi Prospero dice no questa volta dobbiamo riuscirci utilizza questo mito delle donne docenti nel Medioevo però appunto fa leva tutto sul presente quindi gioca tutta la partita sulla città e non su una famiglia oppure appunto come dicevo prima su una parte nobiliare questo fa sì che probabilmente non abbiamo documenti su questo ma Bassi è una persona assolutamente lucida su queste questioni diplomatiche su queste questioni politiche e lo dimostra nel corso di tutta la sua vita la sua corrispondenza che se vi interessa trovate pubblicata sia da Beate Ceranschi in questo articolo si trova in internet dal quale Marinella ha tratto questi brani e sia in un vecchio libro del 1960 quando per celebrare adesso scusate non ricordo che anno della scuola Laura Bassi forse 50 anni della scuola non mi ricordo 1960 Melli un filologo pubblica questo corpus importante di lettere di Bassi e è la prima volta che emerge una Bassi una Bassi accademica una Bassi diplomatica quindi probabilmente questa operazione viene costruita certamente da Prospero Lambertini che è sostenuto perché Bassi ha molti amici naturalmente tra gli accademici e nel Senato gente che si rende conto davvero della brillantezza non solo della brillantezza come vi dicevo prima ma anche del desiderio di studiare di questa donna e di trovare una sua autonomia dentro a questo rigido così apparato cerimoniale il matrimonio in parte rientra dentro questi cerimoniali sociali lei non poteva andare in società da nubile e però allo stesso tempo è un come dire è un'innovazione è un'innovazione perché questi due sono alla pari nella gestione del laboratorio che lentamente costruiscono a casa perché come vi dicevo prima sia la cattedra diciamo la lettura sia il posto in accademia sono onorari e a causa del suo sesso il Senato impone che Bassi non possa tenere lezioni pubbliche terrà una volta l'anno una dissezione all'archiginnasio quando arrivano i personaggi famosi di fatto viene esibita continuerà tenuta a esibirsi parlando di filosofia naturale ma non potrà fare lezione pubblica perché questo le sarà proibito fino quasi alla morte fino al 1776 di fatto cosa fa Bassi grazie all'aiuto di Prospero Lambertini lentamente costruisce insieme al marito un laboratorio a casa questa non era una pratica inusuale moltissimi docenti non solo in Italia ma anche in Inghilterra ovunque facevano lezioni a casa però diciamo che appunto nella piccola Bologna di cui diceva prima Anna Rita uno studio si chiamava ancora studio diventa università solo con la riforma napoleonica all'inizio dell'ottocento Bologna anche solo rispetto al Gran Ducato certamente a Milano è una università in crisi lo si vede nelle lettere di Bassi anche semplicemente attraverso gli stipendi dei docenti i docenti erano pagati di meno c'è una continua richiesta di finanziamenti perché queste macchine che Bassi inizia a collezionare per fare lezione e sperimentare sono costose naturalmente quindi nel 1749 una decina d'anni dopo il matrimonio d'accordo con il marito inaugurano questo laboratorio che diventerà anche luogo di lezione e gli studenti saranno sempre più numerosi saranno studenti bolognesi dalle marche il collegio Montalto poi è il collegio nel quale otterrà un insegnamento però questo molto avanti dal Veneto dalla Spagna dalla Germania dalla Polonia era una Bologna che ancora attirava molti studenti dall'estero Bassi teneva lezione in italiano in francese perché una cosa che non abbiamo detto è che il latino era la lingua ufficiale e quindi anche il fatto che tutto sommato Bassi e Bianchi si scrivano in realtà non in latino è interessante perché altre donne che poi hanno un ruolo ancora Maria Dalle Donne per esempio si sente in dovere di scrivere in latino ancora alla fine del Settecento inizi dell'Ottocento ai docenti che la formano e che sostengono la sua carriera quindi attira moltissimi studenti e questo le consente di chiedere sempre qualche cosa di più al Senato chiedere fondi chiedere spazi fino a che riuscirà riassumo perché le cose da raccontare sarebbero davvero moltissime fino a che riuscirà ad essere equiparata a pieno titolo ai colleghi maschi solamente due anni prima di morire ma con un ruolo a pieno titolo senza più il vincolo del sesso potrà tenere le sue lezioni senza più nessuna senza più nessuna limitazione naturalmente il laboratorio almeno così ho letto il laboratorio dell'istituto era più ricco di quello di Casa Bassi ma in ogni caso quello di Casa Bassi Veratti è raccontato in molte testimonianze di viaggiatori anche che durante il loro grand tour si fermavano e andavano nella Casa di Bassi come una delle attrazioni della città lo raccontano come uno dei laboratori più attrezzati d'Italia c'era una macchina elettrica forse c'era l'unica macchina elettrica importante in città era quella dei Bassi Veratti Bassi si occupa come vi dicevo prima viene formata in modo molto tradizionale come ricordava anche Marinella inizia a leggere Locke a leggere Newton si specializza in fisica newtoniana e diventa una delle prime studiose una dei primi studiosi ad importare la fisica newtoniana in Italia Bassi è riconosciuta anche nelle storie della diffusione dell'appropriazione del newtonianismo a livello europeo tra coloro che hanno contribuito a diffondere la nuova fisica di Newton già all'indomani della sua laurea nel 1737 se non ricordo male Algarotti scrive il newtonianismo per le dame che è un best seller diremo noi oggi dove la protagonista è naturalmente Bassi non la si cita esplicitamente ma è sicuramente un libro costruito su questa donna speciale c'è un'antiporta molto bella la trovate anche nel sito credo dell'archiginnasio quindi una fama internazionale che si guadagna lentamente anche non l'è la cita la land fa lezione ha certamente Galvani Volta le scrive per chiederle un parere Spallanzani che era anche un parente è uno dei suoi dei suoi studenti uno dei suoi allievi lentamente la fama che inizialmente era solo quella della meraviglia del mostro in filosofia della meraviglia del suo sesso diventa quella di un'esperta Paula Fingland parla di carriera carriera è un anacronismo naturalmente applicato al Settecento ma vi assicuro che anche da assolutamente non esperta di Settecento questi documenti burocratici come diremo noi oggi testimoniano di una professionista che costruisce la sua carriera sia con una formazione serissima sia con una sperimentazione sia con un'abilità diplomatica straordinaria Bologna in questi anni viene definita da qualcuno che non ricordo più in questo momento chi è paradiso delle donne sempre sull'onda di queste donne medievali mitiche però cominciano ad esserci anche delle donne reali c'è Anna Morandi Manzolini contemporanea di Bassi di cui si parlerà in uno dei prossimi incontri Cristina Roccati una giovane rodigina che Bassi stessa accompagnerà ecco Cristina Roccati è la vera prima laureata dell'Università di Bologna perché mentre Bassi come vi ho così molto rapidamente detto viene preparata in casa a una formazione diremo informale e poi a questa discussione pubblica delle tesi Cristina Roccati è iscritta regolarmente per quattro anni non sappiamo quante lezioni abbia frequentato però è una vera prima studentessa dell'Università sarà Bassi ad accompagnarla tutto questo però non significa che e così vi mostro l'ultima slide che avevo pensato e che forse avete notato qualche tempo fa per un giorno c'è stato questo tantavo tra amiche colleghe qua di là dall'Atlantico mai visto Bassi il Google Doodle del 17 aprile era dedicato appunto a Bassi che viene descritta come una persona che ha continuamente come vedete in inglese combattuto per la parità di genere grazie alla sua carriera pionieristica ora se c'è una cosa che Bassi delle tante cose che Bassi ha fatto non ha fatto mai è proprio questa cioè Bassi non ha potuto mai parlare a nome delle donne non ha mai potuto sostenere l'educazione delle donne anche le sue figlie solo una sopravvive Caterina sono tre si chiamano tutte e tre Caterina Caterina è una figlia amatissima che muore a vent'anni verrà seppellita nel Corbus Domini credo la chiesa dove poi chiede lei chiede di essere seppellita nemmeno la figlia viene viene educata non ci sono assolutamente tracce di una formazione a nessun'altra a nessun'altra donna non ci sono testimonianze di sue lettere se non una lettera a Maria Gaetana Agnesi in occasione della pubblicazione del libro ma non poteva dentro questo cerimoniale rigido che vi abbiamo descritto assolutamente sgarrare doveva restare un'eccezione il concetto di eccezione è importantissimo per capire queste donne per capire Bassi per capire Morandi Manzolini per capire anche le due che seguono Bassi e Manzolini e cioè Tambroni Clotilde Tambroni che però è una grecista e Maria Dalledonne che si laurea in medicina nel 1799 ed è l'inizio della fine perché Maria Dalledonne si laurea in medicina verrà formata e anche di Maria Dalledonne si parlerà perché c'è una serata dedicata alle ostetriche esatto è una figura straordinaria che vive come Tambroni a cavallo tra questo ancien regime e le guerre napoleoniche che sono ecco sarebbero da descrivere con l'umorismo di Janus Plancus perché in 18 anni succede di tutto con la nascita di quella che chiamiamo università moderna le donne vengono assolutamente escluse dopo queste quattro la studiosa che troviamo a fare ricerca all'università di Bologna è Giuseppina Cattani alla fine dell'ottocento ancora una volta temporaneamente perché dopo una esperienza interessante lavorava sui vaccini tra l'altro a un certo punto dopo aver perso non so quanti concorsi abbandona l'università di Bologna e va a dirigere l'ospedale di Imola Cattani era un emancipazionista era figlia di un'allevatrice amica di Andrea Costa un personaggio ancora una volta straordinariamente interessante però che ha tutti i problemi che avrebbero poi avuto tutte le donne anche del novecento dentro l'università quindi queste sono eccezioni eccezioni devono restare e Bassi sa questo non può assolutamente permettersi di scrivere le cose che invece tenta per esempio tenta riesce che scrive voi fermatemi Clotilde Tambroni che nel 1806 citando anche Bassi ma non citando le donne inventate del medioevo citando donne reali dai pazia fino a se stessa dalle donne eccetera costruisce un discorso interessantissimo sull'unità della conoscenza dicendo che le scienze e le lettere devono dialogare diversamente l'una nell'altra hanno quella forza che possono avere eccetera eccetera questo per difendere la propria cattedra che sarebbe stata eliminata di lì a due anni Tambroni lo può fare ma Bassi non lo può assolutamente fare e io volevo chiudere su questa immagine di Google perché il Google Google ci ha fatto molto piacere nel senso che è stato un celebrare una donna del passato che quasi nessuno conosceva quasi nessuno conosce fuori dai nostri circoli così o di appassionate lettrici di storia delle donne oppure insomma per ragioni così magari professionali però questa frase sul falsa che come dire alimenta miti probabilmente non è quello di cui abbiamo bisogno perché alimentare attorno queste figure pur grandi non sto assolutamente cercando di sminuire questa figura che è stata peraltro importantissima per escrivere interi capitoli della storia istituzionale di rapporti tra donne e uomini ha consentito di conoscere meglio personaggi non solo locali ma anche di altri paesi costruire dei miti ci come dice ci distrae dal contesto ci allontana dalla necessità di capire come mai tutte le altre invece no come mai questa idea dell'eccezione permane e sopravvive o all'impressione che spesso ancora circoli nei contesti di ricerca e non solamente in Italia anche in paesi dove la parità di genere è magari almeno a giudicare da tanti indicatori a un livello più avanzato leggendo in questo caso una cosa di Paula Finland ho ritrovato una frase che mi ha molto divertita per far così dire di Esther Sainsbury che è un inglese che sposa un ricco produttore di birra resta vedova quindi diventa una ricchissima signora poi sposa un italiano un cantante un musicista e quindi viaggia per l'Italia arrivata a Bologna nel 1785 poco dopo la morte di Bassi fa il giro della città e naturalmente tra le varie tappe c'è la visita al luogo dove morta aveva lavorato Laura Bassi c'è ancora un guardiano un binello avremmo detto nel novecento che aveva conosciuto Bassi e quindi racconta la signora di questa donna che in questo suo libro è una donna che poi ha scritto dei volumi anche sulle donne considerata una cosiddetta proto-feminista diciamo così diceva forse questa passione degli italiani per l'eccellenza non ha giovato a favore dell'emancipazione delle altre donne questo continuo lavoro dell'eccellenza consente ai pigmalioni perché qui adesso chiudo ha consentito ai pigmalioni di esibire se stessi di ottenere dei risultati che di volta in volta potevano essere politici scientifici istituzionali a seconda dei casi ma non ha fatto il bene delle donne normali diciamo come noi la eccezione ne ha tratto giovamento nel caso di Tambroni c'è il tentativo di uscire con grande determinazione di uscire perché due generazioni dopo Tambroni forse ha la sensazione che qualcosa sia possibile ma con la cosiddetta democrazia napoleonica che di fatto è una guerra è un'imposizione da fuori l'università diventa quel luogo dove la cultura deve essere in primo luogo anche maschile perché l'università diventa il luogo di dialogo anche con il contesto dei militari da lì fino al progetto Manhattan e oltre l'università è un luogo dove si fa ahimè anche questo e su questo la ricerca è ancora agli esordi e si sta lavorando il concetto di mascolinità si costruisce proprio in questi primi decenni dell'ottocento e il caso Bologna è veramente interessante perché unico e sta aiutando a capire come tutto questo abbia come dire questa eccezionalità abbia aiutato gli uomini a prendere consapevolezza del fatto che se avessero come per esempio sembra a un certo punto nel caso di Maria Dalle Donne ha accettato di fare in modo che la scuola di ostetricia fosse dentro all'università come si discute in una sera c'è un documento bellissimo dell'inizio dell'ottocento a casa del rettore beh quella sarebbe stata davvero la volta in cui si sarebbero aperte le porte perché c'erano già dei precedenti e questo esatto questo non è possibile chiudo con questo dicendo che a proposito dei pigmalioni il medico assolutamente brillante che forma Maria Dalle Donne e che la porta descritto nelle gazzette nella gazzetta di Bologna del 1799 le offre i sigilli quindi partecipa alla cerimonia di laurea è uno che negli anni in cui sta formando Maria Dalle Donne sente il bisogno di scrivere l'ennesimo panflet sulla inferiorità mentale delle donne dove precisa in chiusura che non si devono invidiare i paesi dove le donne stanno iniziando a studiare di più dove il luogo delle donne è la casa nel momento in cui sta portando Maria Dalle Donne alla laurea quindi a propria gloria e ancora una volta dentro il concetto di eccezione mi fermo io senza rubare tempo all'ultima lettura che avremo insisterei su quest'ultima riflessione fatta da Paola sull'eccezione e su un'eccezione che favorisce il pigmalione piuttosto che le donne normali dicevamo all'inizio l'attualità di Laura Bassi beh l'attualità di Laura Bassi ai noi sta anche in questo l'ultimo bilancio di genere dell'Università di Bologna ci dà un quadro da questo punto di vista inquietante noi abbiamo ricercatrici e ricercatori più o meno in pari numero il grado più basso della carriera accademica e poi la forchetta comincia ad allargarsi a mano a mano che le carriere crescono con una quantità di professori ordinari cioè del ruolo più alto prevalente in grandissima maggioranza maschili e con la rarissima presenza di professoresse o di professore femmine nei ruoli di gestione di apicalità massima direzione dei dipartimenti e quant'altro l'università nel momento in cui diventa forte potente politica decisionale capace di decidere ai noi è ancora maschile abbiamo iniziato parlando dell'anno mirabile 1732 la laurea di Laura Bassi io non so se questo lo sarà ma per la prima volta nella storia millenaria dell'università di Bologna abbiamo due candidate a fare le retrici donne non sappiamo che ne sarà però è un segnale anche questo probabilmente eccezionale anche questo probabilmente capace di segnalare una condizione che non è la condizione di tutte ma di nuovo la celebrazione delle eroine della scienza passata in termini trionfali rischia di fare torto alla storia ma rischia anche di alimentare un falso mito che diventa un'illusione e che è smentito purtroppo dalla realtà dei fatti bene allora molti auguri alle alle rettore rettore alle rettore mi sembra sempre più importante rappresentare queste storie perché ciò che non viene rappresentato non è lo dico questo da attrice tenendo conto che sui palcoscenici fateci conti proprio quante attrici vedete quanti attori quante direttrici quanti direttori di teatro eccetera eccetera quindi ce n'è da fare ragazze possiamo andare chiudo con l'ultimo capitolo del bellissimo libro di Marta Cavaccia curato anche da Paola Govoni su Laura Barsi che è tutto dedicato all'elenco al catalogo degli oggetti delle macchine che si trovavano nel famoso laboratorio di Bassi e Veratti io ho fatto dei carottaggi perché sono 20-25 pagine ovviamente ma così come sulla lettera iniziale la lettura di una lettera del settecento ci dà esattamente la distanza linguistica e di mentalità così voi sentite cosa sono cos'è la descrizione di queste macchine se uno oggi vuole comprare un telescopio va su internet non dico ebay o amazon ma forse sì mette una sigla due misure il prezzo quando te lo consegni ecco capite dalla descrizione che cos'era questo questo archivio di strumenti credo che chi ha scritto questo elenco o era bolognese o era veneto giustamente è stato pubblicato così com'è con anche gli errori e quindi sentirete che sono un po' così tutti gli strumenti sono catalogati per tipologia di ricerca cui servono ve ne leggovi il primo che mi è piaciuto molto appertiene agli strumenti che servono a misurare la trazione e la repulsione dei corpi due tondini di peltro e uno scaldabivande per la trazione delle bollicine d'aria e servono pure a formare una congelazione sopra il fuoco tutto l'armadietto delle calamite bussole nautiche numero 9 una piccola tutta in ottone una beslunga in legno una fatta in Austria una fatta in Germania che segna l'orologio da giorno e da notte con le costellazioni fasi della luna in grado di elevazione dal polo di tutte le città tutta dorata in scattolina di legno nero dorata è scritto di apostrofo secondo me cominciavano ad avere fame questi qua per cui dorata strumenti per la gravità una piccola tavolina di noce con sopra un cubo una piramide un cilindro di piombo e un altro cilindro più grande a otto facce dice che tutto serve per la gravità per gli esperimenti sulla meccanica una macchinetta che si appende scritto appende al muro dalla quale partono due fili di ferro a piano inclinato che si tendono mediante due viti fermate al suolo nel filo superiore si colloca una campanella nel inferiore il corpo che discende discende scritto così come la Madonna di San Luca che discende dal colle secondo la nota cancione che discende il corpo e fa suonare la campanella sono veramente sempre di entrare in un mondo di favole idrostatica ampolla di vetro con entro palina di piombo di ferro con vaso di cristallo e suo coperchio con entro polvere dall'abastro cosa misteriosa per misurare l'aria atmosferica è aria fittizia una sfera grande al collo della quale è annesso un rubinetto con piattino d'ottone per pesare l'aria un'altra due canne ripiegate una di metallo e l'altra di cristallo per il passaggio se viene detto questo per il passaggio delle arie traverso l'acqua una macchina per lo studio della luce ovviamente fondamentale macchinetta di pero nero con i piedi ove sono i colori neutoniani con i fili neri per riflessione con una S sola adoprando la lente con la fiamma di una candela infine l'elettricità appunto si diceva prima c'è una macchina elettrica tisolo antica con due cilindri e due globi di cristallo in uno dei quali vi è un rubinetto fatto in Olanda per levarci l'aria con la macchina pneumatica c'è un padelin per il fuoco da riscaldare il globo una spranga di ferro che serve da conduttore lastra di cristallo per formare i lampi bellissima questa infine una cosa che vorrei possedere vorrei vedere perché io non so ho immaginato bassi con tutti i vestiti settecenteschi le crinoline no non era non c'aveva tutte le cose quando era in laboratorio no va bene però parrucca tutta una così che ha una macchinetta piccola elettrica da tasca bellissima poi avevano già chiuso tutti gli elenchi avevano già messo via carta penna calamaio tutto così stavano per chiudere alla porta dice no dai c'è un altro mucchio di roba qui ma dai questo qui ce la siamo dimenticati dai scrivi scrivi allora aggiunte al suddetto elenco di gabinetto un telescopio di tre piedi inglese vari vasi di latta di uguale circonferenza e diversa capacità a cosa si servono non so ma tu mettili che sono nell'elenco un piccolo mapamondo inglese marca Adams bene direi che noi abbiamo fatto io ringrazio Marinella Manicardi e Paola Govoni e noi ringraziamo te voi ringraziate me questa felice serata grazie a voi di essere rimasti qui e nessuno ci ha disturbato forse non hanno fatto gol non hanno fatto gol allora ci aspettavamo perché abbiamo temuto all'inizio adesso arriveranno i gol hanno rispettato la nostra signora forse forse una cosa che avrei dovuto dire a proposito del laboratorio ma giusto così perché siamo qui un po' che magari può interessare è che a Bassi quando muore sulla cattedra succede il marito Bassi era lei che chiedeva gli aumenti di stipendio per Verati e al marito succede il figlio e sarà Paolo che svenderà questo laboratorio che è andato disperso non esistono più pezzi a Palazzo Poggi non ci sono purtroppo pezzi del laboratorio di Bassi come non ci sono rimaste le sue carte non sono rimasti nemmeno i suoi scritti e questa è un'altra delle nonostante la sua eccezionalità questo è un destino che colpisce spesso le donne rispetto agli uomini quando studiano le carte vanno disperse quindi di Bassi abbiamo tutta l'amministrazione diciamo le carte burocratiche che ci raccontano queste storie benavigliose però mancano molte carte personali e il laboratorio è stato svenduto abbiamo l'elenco che Marta ha ritrovato negli anni l'elenco è bellissimo sono queste descrizioni sembra un paese da favola proprio grazie le ampolline le ampolline grazie a tutti